Ad Asiago i campionati nazionali di sport invernali della GIL hanno riunito sette centurie di avanguardisti. Gare animate, disputate con tenacia, hanno dato ai comandi di Sondrio e di Vicenza la vittoria. I giovanissimi sciatori di Vicenza vincono la staffetta di chilometri 1,500 per 3 in 27 primi, 14 secondi e un quinto. La gara di discesa libera per avanguardisti ditta da Crivelli Paolo del comando federale di Milano ha il suo svolgimento veloce. Passati ed innocui i capitomboli che non scoraggiano i concorrenti.